C'è il simbolo di Super Smash Bros, quindi non c'è un simbolo di Super Smash Bros. Diciamo di un gioco particolare, quindi non so cosa possa succedere. Una squadra mia, wow. Suconfigli 10 avversari? Ho letto sotto, lo schermo sotto, che voi non vedete, troll. Ah, questo è quello che c'è anche nel demo, questa... No, 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 basta fare scemenze, basta fare scemenze. E sono morto. Eh, perché è giusto così? Dove ancora imparare, capite? Dai. Uno è morto. Mi mancano tre, vedete, in alto. Voi non lo vedete moltissimo, purtroppo. È troppo zoomato, mi sono fatta. Faccio un attimo, una cosa. Ecco, vedete, in alto. Ecco, adesso me ne mancano due, per esempio, vedete? E ci saranno poi i bordinieri, ragazzi, scusatemi, però. Via! Manca solo uno. E finito. No, 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 ti prego, ti prego, no, 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 no. Non dirmi che perché io? Nooo, me ne mancava uno, me ne mancava uno. Io che voglio fare la mossa, strafigerdi, ma tipo, no... Colpa mia, colpa mia. Possiamo continuare Non ho ancora capito cosa vuol dire Spero non sia Qualcosa di brutto Dopo vedrò meglio Ok Sì ma magari Stai un po' più attento Oddio Ti volevo fare di fuori tutti un colpo Cosa mi stanno facendo? Ok me ne mancano Chi è che è saltato così? Sono figo Cosa ho fatto? No Sono morto Sono morto Dai Charizard E via Non la bomba no Via 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 Mi manca uno in teoria Ecco finito No mi manca un altro Ho fatto un fail Eccolo Vinto 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 Bastos Rezummo Così non vengono le bordine eriche È più carino Ragazzi che sfida questa Ho fatto un fail pazzesco Però vabbè Vinci e cammino 10 gettoni Io spero siano quelli tipo Per continuare Deve aver perso Tipo delle cose Che dopo vanno a pagamento Siamo arrivati alla fine? Sì siamo arrivati alla fine Ragazzi questo è l'ultimo Traguardo Eccoci qui Cosa Cos'è? Sono contro Master Hand Le compenze sarà di un tipo vita Credo Forse va a vita ecco Quando decidi di sprecare una vita Per andare avanti Vabbè Non gli va anche bene 190 PS Master Hand Ok ma se mi dite un po' di più Magari perché Così mi fa il gestaccio Aia No 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 Salta 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 via Sì ma è overpower Ma stiamo scherzando? Liberati Charizard Sei un drago Sì grazie Non fai fail Sì ma è fortissimo Master Hand Is Troppo fort Eh però dai Non si riesce neanche a evitarlo Sì poi se io Mi ci metto ovviamente No Così È così Game over E mi tocca ricontinuare Adesso analizzo anche meglio Cosa mi dice allora Delle tipo vite perse Quello che è Ma ragazzi Non ci può fare Ah ricompensa totale Quindi non credo sia Targettoli Sì Se non mi costa niente Non so ragazzi Spaccarocci Fammi di ripeto Il volo in direzione Il caso Alla vicino Siamo io con questa Marina del cacchio Come faccio? Non fa il gestaccio Almeno Siamo io Mi danno Ma rovescio Non so io Siamo qua Come faccio a scattare? Me lo dite? E qui l'ho fatto male Vi sa Grande Stiamo andando meglio Stavolta Bene 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 No 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 Non farò che Scasforo Ammarrate Ok l'ho fatto per evitarlo Però Ho fatto La cagata E però non si deve Arrabbiare Ah ragazzi Questa seconda parte Un po' Così E adesso È l'ultimo spezzone Questo è il boss finale Quindi Quindi è ovvio Che sia difficile La prossima volta Ragazzi Faccio facile Non normale Perché Sono le prime armi Quindi Sì 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 Meno gestaci Più Fate Sì ma magari Se mi eviti di Ma perché Mi prendi Già risalto Non fatti prendere Non ci credo Mi è ammazzato così No 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 Questo è È troppo forte No no Non sta roba Dai no ragazzi Non si può No 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 Mi è fatto Non basta No no ragazzi Non si può fare Poi anche con la telecamera Tenuta così Non ho la soddisfazione Ho le mani qui così Do fare così Non so se mi capite È davvero impossibile Giocare Registrando No è impossibile Ragazzi Poi io che non Mi intendo molto Poi Charizard Non è nemmeno Un personaggio Mi piace molto Da giocare Io preferisco Di molto Link Ci prendiamo L'ultima volta Magari se fai Meno Il troll Eh no no Basta 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 Non è possibile Quando uno si scansa In fondo No Questo è un meno Diluso Non l'intendo Non può fare Un personaggio così forte Per essere la prima volta Che gioco In difficoltà normale Forse è difficoltà difficile Dico Vabbè dai Almeno No 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 Non si può Ma come faccio io A fare No ragazzi No È impossibile Andare avanti Con Master Hand Quindi No 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 Boss finale È troppo forte Fatemi sapere anche voi Come andate Come state andando Ma io veramente Con Master Hand È davvero impossibile Io continuo a continuare So che un po' Comun Forse mi dimezza Il risultato Boh Non lo so Comunque Se fosse Facciamo proprio L'ultima volta Ragazzi Poi basta Anche perché Sennò la parte Diventa troppo lunga Ma perché mi prende Chiaro distanza Orbitale Come si fa No 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 Se lo faccio più Non mandarmi di là Anche vigliacco Ma almeno Mi lascio un attimo fare Non so Ma stiamo scherzando E come andiamo a fare Evitarlo Se fosse uno scatto Qualcosa Sennò Stai tranquillo Evitato In teoria L'ho evitato Sì ciao Mi hanno venuto a farlo Da solo Non ho potuto neanche reagire Se ora si sia visto No no Di là non mi la Non so Bagno Niente ragazzi È possibile Io cercherò di farlo Magari Fuori dalla parte Quindi da solo E quindi Continuerò Fuori dalla parte Mi dispiace Ma è davvero impossibile Farlo registrando Quindi Non vi piace Lo stesso ragazzi Ti sostiene Più che altro Iscrivetevi E commentate E noi ci vediamo Nella prossima parte Forse Ricominciando la storia Magari con un personaggio Un po' più forte Ciao ciao